Sono sempre di più le persone che scelgono di trascorrere il tempo libero e le vacanze in montagna. Le misure anticontagio hanno riacceso in molti la voglia di tornare a fare picnic così come avveniva normalmente in passato. I meno giovani ricorderanno forse che negli anni 70 era consuetudine per chi aveva un'auto la domenica andare alla ricerca del fresco e consumare il pasto all'ombra dei faggio e dei castagni. È in questa ottica anche come senso di ospitalità che alcuni operatori turistici hanno pensato bene di creare una forma di trekking aperto a tutti dando la possibilità di percorsi facili e anche di fare picnic. È questa l'ultima trovata dei gestori del centro turistico del casone di Profecchia che per motivare le presenze nel periodo estivo hanno realizzato un piccolo percorso aperto a tutti in forma gratuita. Sì, ci siamo un po' adattati a questa emergenza, abbiamo creato un percorso alternativo, un percorsino di trekking accessibile a tutte le persone, un anellino di un chilometro e durante questo percorso abbiamo allestito dei tavoli dove le persone possono fare un po' di sosta, sfruttare l'area picnic e poi accedere qui al parco avventura. Dal casone di Profecchia, a piedi ma anche in mountain bike, è possibile raggiungere i crinali appenninici in pochissimo tempo e godere di panorami straordinari, magari salendo sulle cime del Monte Vecchio e del Monte Prado che è la cima più alta della Toscana. A rientro poi la possibilità di svolgere varie attività sportive nei campi scuola da sci praticando. E poi ci sono le attività sportive dallo sci d'erba, al tiro con l'arco, alla parete arrampicata e al parco avventura con una tecnica particolare, con un anello che si aggancia all'inizio, si aggancia a fondo quindi sicuro anche per i ragazzi che partecipano, che comunque girano su percorsi.